Finalmente si inizia, domenica prima giornata del campionato di Serie D. Il Brindisi farà visita al Francavilla in Sinni di Nicola Ragno, una gara delicata contro una formazione ben allestita dall'ex allenatore Rancolasici, oggi direttore tecnico dei Sinnici. Brindisi che si presenta a questo appuntamento rinvigorito, almeno sul piano morale, dalla vittoria in Coppa Italia con il matino. La novità per questa prima trasferta stagionale è rappresentata dal ritiro lungo. L'allenatore Biancazzurro Mauro Chianese infatti ha chiesto di anticipare la partenza a sabato mattina, presto, in modo da pranzare in Lucania ed effettuare lì anche l'allenamento di rifinitura in un campo che è stato appositamente preso in fitto dal club. Insomma società e staff tecnico vogliono preparare la sfida del Fittipaldi nel miglior modo possibile. Francavilla in Sinni Brindisi inizierà alle ore 15 e sarà diretto dal signor Felipe Salvatore via Piana della sezione di Catanzaro. Assistenti di gara Dario Maione di Nola e Pierpaolo Vitale di Salerno.